Musica Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è AgroModerni Siamo qua in questo nuovissimo episodio di Dirt Rally Allora, non perdiamo tempo, avviamo subito la corsa 4, 3, 2, 1, via Destra 6, destra 4, lunga tronchia all'interno Dai, 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 dai Destra 6, in destra 4, il crinale In attenzione, destra 5, su crinale, possibile salto cancello Salvato per il rotto della cusfera Crinale 60 Connetto alla destra 6, su crinale, e crinale, e crinale, discesa Destra 4, continua per 90, stai all'interno, su affossamento Oh, oh mio dio Lassù c'è qualcuno che mi vuole bene Intornante sinistro Crinale Oh mio dio, non ci credo Lo spirito santo è sceso su di me, ragazzi Dai Ho imparato a giocare Forse Attenzione, stai al centro, salto, poi destra 5, media Su cunetto Io cosa avevo detto? Per l'episodio 4, l'episodio 5, imparerò a guidare Mi sento meglio che quando ho imparato ad andare in bici Tipo avevo 3 anni, 4 anni, quanti anni avevo Che poi, aver imparato Ok Agro Tiriamocela addosso Dai, sì, tanto sparliamo Che avevo imparato a guidare Non è vero Vabbè L'ho presa male Però ho capito come li devo fare Devo sfruttare la fisica Sinistra 4 lunga affossamento Sinistra 2 su crinale Affossamento crinale, attenzione Tieni la destra su crinale, pali Sinistra 3 lunga, attraverso pali e si apre Fanculo Ragazzi, di guidare è anche così Però, cioè Vabbè Spero che vi piaccia Attenzione 100 discesa dopo il vivio Tornante aperto destro Ciao bella macchinina Sinistra 6 Sessanta cautela Sinistra 6 Destra 6 Ottanta Attenzione Sinistra 6 Crinale Possibile salto Tieni la sinistra su crinale Salto Stai al centro su crinale E destra 6 In sinistra 6 Sessanta Tieni la sinistra su crinale Non riesco ad andare dritto In destra 6 Stai all'interno crinale In sinistra 6 Questa cosa mi dà fastidio In destra 6 Sessanta Tieni la sinistra su crinale Cautela crinale Poi destra 3 Lunga Stai all'interno Niente ragazzi Provo a guidare così Perché altrimenti Non riusciamo a fare un buon tempo Sessanta crinale Sinistra 6 Destra 5 Media Su affossamento 100 Eh le balle Il buon tempo Sinistra 5 Media Stai all'interno 170 su crinale Attenzione crinale Poi sinistra 5 E destra 4 Lunga Io odio Sti cavoli Eh tagliamo un po' D'erba medica Per pro farming Vai va Scemo Oh All'ultimo Allo scadena dei secondi Si è buttato su Attenzione Destra 6 E sinistra 6 E destra 5 Lunga Tieni la destra Su crinale 60 Destra 6 60 E che ho proprio Lo stile di guida Opposto a quello Che mi dice Quando lui mi dice Tieni la destra A me verrebbe Attenzione alla sinistra Continua per 100 Forse per quello Che serve il navigatore Però Si restringe Tornante destro Che bel tornante Sì Però ho imparato A fare l'inversione Almeno quello Secondo me Il motore più potente Che abbiamo montato Dopo l'episodio 2 Che bello Ragazzi Il primo minuto E 30 Di questo video Sarà stato Tipo da incoronare Ma alla fine Veramente Che schifo Mamma mia Quanto sono Arrivato Ottavo Totale Sarò Sempre settimo L'ultimo Partirà un po' Sul punteggio Ma Oh mio dio Ma quanto diavolo È lunga Sta cosa Allora Allora Dai 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 Ah ragazzi Intanto mi scuso Per il I primi due episodi Che hanno avuto Un piccolo bug Nell'altro Ok ragazzi Allora Purtroppo C'è stato Qualche piccolo Problema di registrazione Quindi mi son perso Praticamente Metà Della penultima Prova speciale E l'ultima Prova speciale Quindi Andremo Passeremo Direttamente Passeremo Direttamente Al rally Di Monte Carlo Farò Una prova Speciale Che basta E Poi vedrò Di recuperare Con i prossimi Video Mi dispiace Per questo Piccolo Problema Comunque Non vi siete Persi Chissà Che prove Lo stile Di guida Sta migliorando Piano piano Anzi Adesso Sto Già Registrando Dopo Altri Giorni Dopo Dopo Un po' Di allenamenti In single player Staccato Dalla Della modalità Arcade Per capirci Senza Il profilo Quindi Spero che I miei miglioramenti Dalla guida Si facciano vedere Rally di Monte Carlo Che prima o poi Mi andrò A vedere Anche dal vivo Perché È uno dei più belli Allora Con l'audo No Non lo faccio Perché l'avevo Già fatto l'altra volta E non me lo posso Giocare più Ok Vediamo se 5 4 3 2 1 Via Ok Dai Agromatiscila tutta Destra 2 Poi sinistra 2 Cazzarola In sinistra 2 Lunga Crinale Destra 1 Lunga Si restringe In sinistra 2 Media Perché Eh devo forse Tirare il freno a mano Lì In sinistra 5 Lunga 170 Su crinale Scemo agro Ok Comunque vi ringrazio Lo stesso di tutto il supporto Perché mi state Dando davvero tanti Consigli Crinali Crinali Everywhere Lol Ecco Questo mi è piaciuto In sinistra 2 Lunga In destra 6 60 Destra 6 Lunga Crinale Ok 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 Sinistra 6 Poi destra 3 Lunga Crinale Poi tornante Sinistro Aperto Oh cazzo Rola No Non ho abbastanza potenza Per fare il freno a mano In destra 5 A parte il fatto che qua Ci avrei dovuto arrivare A non so che velocità Per fare un freno Un freno a mano decente Inderrapata qua Perché Sivistra 1 Lunga Si restringe In destra 1 Media In sinistra 3 Lunga 100 Ma perché Ok Ragazzi Riprendiamoci Ho detto Riprendiamoci Cioè In sinistra 5 In destra 4 Lunga In sinistra 2 Lunga Una traiettoria Sporchissima Scusate Ma dovevo provare A mettere la mia solita Visuale Per capire Ho toccato Da qualche parte A kicker Non carcere Oh mio dio C'eravamo così riusciti A farlo decente In sinistra 4 Sessanta Sinistra 4 Crespo In destra 6 Sessanta Destra 5 Lunga Possibile salto 130 Tornante destro Si apre No Ghiaccio Oh mio dio Tra l'altro ragazzi Adesso sto giocando Con la nuova versione Che ha un po' di bug Risolti la 0.3.2 Sì magari non siete abituati A sentire la versione 0.2 Ma quando si parla di beta È sempre così Allora No Era quasi perfetta Vabbè Devo vedere un attimo La sensibilità Perché secondo me È troppo sensibile Il joystick Tornante sinistro 60 Aaaaa Sinistra 6 Dai aggro Dai 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 E destra 6 Su crinale 40 Attenzione Crinale sinistra 6 Subito tornante destro Madosca 150 Su crinale In tanti mi avete considerato Ragazzi Di usare il volante Perché è un po' più preciso E lo so Il problema è che Quello che ho io Oltre al fatto che è vecchio È ancora uno di quelli Che c'ha il ritorno Con il rumore Aaaaa Una cosa del genere Quindi Quando hai mai Gameplay Dato che è un microfono Abbastanza Sensibile Sentireste la mia voce Coperta da La mia voce Più le note Più ancora un Aaaaa Continua Quindi non è proprio Massimo Però diciamo Non ci siamo ancora presi Nessuna penalità Rispetto agli altri rally Quindi Va già bene Aggro Non parlare Perché poi Teletiri Teletiri da solo Mi zica Sto ghiaccio È veramente impossibile Da gestire Sinistra 5 Continua per 100 Ok In destra 5 Poi sinistra 6 In destra 4 Lunga Non tagliare Cautela Sinistra 1 Lunga Stretta Ah è il cambio Ribadisco ancora una volta Ragazzi è automatico In destra 6 Media 150 Su affossamento Perché Molti forse non l'ha capito Mi hanno dato consigli Ehi Aggro Guarda che devi anche cambiare ogni tanto E queste cose qua È proprio la macchina Che cambia automatico Dai Non troppo distrutti Io spero ragazzi Il prossimo episodio Penso che ci faremo Tutte e tre le altre tappe Spero che questo video Vi sia piaciuto Chi che ha rotto il parabrezza O Campbell Siamo Sesti Eh vabbè dai Vediamo un attimo il replay Così vi faccio vedere anche un pochino la modalità replay Che magari Così vi potete vedere anche qualcosa di Con un'altra prospettiva Mi piacerebbe in futuro Avesse Quest'estate Magari avesse un po' più di tempo Fare le partite Con la webcam E poi mischiare Oltre alla mia guida Anche il replay Nel senso che io Prendo l'audio dal Da io che giro Però poi ci metto anche il replay Come riprese Ecco vedete comunque Il Il Come si Il dettaglio dei freni Che si surriscaldano È davvero particolare Se non ci fossi io Che faccio cagate ovunque Sarebbe anche bello Tira tutta Qua mi pare che non ho Eh Ho visto ragazzi Che ci sono anche le mod Da inserire qua Tipo per mettere delle livree Tipo livree all'italia Da mettere sul 131 E la stratos Livree a martini Da mettere sulla delta E queste cose qua Vedremo più avanti Sulla folia ragazzi Non so che Che livree c'era Di particolare Comunque Io direi che ragazzi Per questo episodio è tutto Con questo finto Tornante è andato male Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi invito a lasciare Un bel mi piace Spero che questo episodio Sia venuto abbastanza lungo E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Che conterrà le tre Prove Prossime prove speciali Quindi Al massimo sarà più lungo Il prossimo E niente Da Gromoderni è tutto Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Tornante destro Ciao a tutti Ciao a tutti